Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dell'arma dei carabinieri volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. L'attività più recente svolta a Rosarno ha visto coinvolti i militari della compagnia di Gioia Tauro, dello squadrone riportato cacciatori Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valencia che durante un controllo al terreno adiacente a un'abitazione presso la quale era in corso una perquisizione hanno rinvenuto delle infiorescenze nascoste sottoterra a una profondità di circa mezzo metro. Il terreno smosso ha infatti incuriosito i militari che notata la difformità con il resto dell'appezzamento hanno cominciato a scavare rimanendo così un sacchetto di plastica di colore nero e un barattolo di vetro contenente verosimilmente della marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta dello stupefacente si inserisce nella più ampia attività di contrasto al traffico di sostanze messe in campo dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che ne costituisce uno degli obiettivi principali nell'ampio disegno di contrasto di tale fenomeno criminale e dei proventi illeciti che ne derivano. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.